Giuseppe Tesauro, in nome di un'antica amicizia, ha accettato l'invito dall'ex governatore della Regione Molise, Enrico Santoro, visitando il Museo del Paleolitico di Sernia. Per il presidente merito della Corte Costituzionale, il paleosuolo farebbe le fortune di qualsiasi regione, eccezione fatto ovviamente per il Molise. Guardi, questa è una cosa straordinaria, è un gioiello, l'Italia ha tante belle cose, questa credo sia una delle più belle, è una cosa unica questo sito paleolitico, bisognerebbe un po' farlo sapere in giro, riceverebbe certamente l'applauso, l'interesse, forse anche l'accanimento non solo degli studiosi, degli specialisti, degli archeologi, eccetera, ma di una platea di turisti incredibile, anche dall'estero sostanzialmente. Qua in altri paesi per una cosa del genere si farebbero settimane bianche, verdi, rosse, verrebbero qua e darebbero un grande contributo allo sviluppo della regione. Avvocato cassazionista, appartenente ad un'illustre famiglia di giuristi partenopei, Giuseppe Tesauro è stato presidente della Corte Costituzionale fino al novembre del 2014. Durante la sua visita al Paleolitico di Sernia, ha voluto ricordare ai giovani l'importanza della nostra Costituzione, pur riconoscendo che l'usura del tempo impone delle modifiche sostanziali. Ma guardi, tutto è perfettibile. La nostra è una bellissima Costituzione, i nostri costituenti furono dei grandi ingegneri del diritto. Naturalmente, come tutte le cose, come tutti gli strumenti giuridici e le Costituzioni in particolare, risentono anche un po' del tempo in cui sono state poste in essere. La nostra fu un momento, l'alba di una notte tragica, in cui tutte le forze politiche, anche opposte, si riunirono e fu un'opera sinergica la nostra Costituzione, quindi con tante cose bellissime che per oggi possono in parte essere perfezionate, precisate. Ci sono tante cose che hanno denunciato l'usura del tempo. Non poteva mancare, da parte del Presidente Merito della Corte Costituzionale, un riferimento alla riforma del Senato. Una riforma che per Giuseppe Tesauro era ormai improcrastinabile. La perfetta somiglianza di Camera e Senato era un difetto da perfezionare. Questo è un altro discorso, adesso non vorrei entrare in un discorso politico. Certamente il Senato, poi in Italia, a Roma, la parola Senato è una parola antica che il solo evocarla naturalmente dà delle emozioni. Forse questa è una delle ragioni per le quali non si è pensato di abolirlo del tutto. Sono state riviste le funzioni, il metodo elettivo è stato ridimensionato, adesso con gli accordi ultimi forse si è trovata la quadratura del cerchio. Era una delle cose da modificare. Poi ce ne sono anche altre, poi piano piano, chi va piano va sano e va lontano. E continuano a camminare un po'. Grazie a tutti.